Salve a tutti gli amici di Accordo e Chitarre, oggi siamo qui per provare nuovi prodotti di casa Mark Bass, tra cui la nuova testata TTE500, ovvero la Randy Jackson Signature e la sua cassa, la New York 151 RJ. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!